come ho finito tutto questo e non ho mai avuto nessuno e non ho mai avuto un viaggio in Amsterdam ma ho già la bobbazza tre o quattro ore in Londra era tra puttana spanile droga ma ho già combinato proprio con la carne ammaccionata che si fa nel pulpetto a Roma